Ciao ragazzi bentornati sul canale, benvenuto chi è nuovo, prima di iniziare l'episodio di Prototype vi invito a iscrivervi sulla mia pagina Instagram e sul mio canale Twitch Quindi quindi quindi, allora, non penso che manchi tanto eh, allora, l'ultima missione, quella con gli elicotteri che abbiamo fatto, è stata abbastanza impegnativa Ma nonostante questo, comunque, ci siamo riusciti, non con semplicità, ma comunque ci siamo riusciti Allora, dirigiamoci verso la prossima missione, che dovrebbe essere qua nei paraggi, perché di solito quando io parto Ok Usa un carro o un lanciarazie per attaccare la base E qua abbiamo il travestimento militare dall'ultima missione Però, bisogna vedere Adesso Ah Ammazza Ma che cosa mi stanno sparando? E là E là Red Crown, this is Fire Team Echo, we have no visual, over Ecco Ok L'hiamo preso, raga, ce l'abbiamo fatta C'è un po' è un po' è un po' Ok, ce l'abbiamo fatta Ok, ce l'abbiamo fatta Consuma Taggart, bene Hai già la terza volta che gli distruggo i carri armati E ora posso consumarlo Ok, ce l'abbiamo fatta Entra, entra Ok Perfetto ragazzi E anche Taggart Lo abbiamo salutato We have less than an hour What's next? The last person responsible for all of this Dies tonight If we make it out of here You think you're ready? I was made for this Citadel Command, this is Captain Cross Mission accomplished I have Colonel Taggart in custody Ready for extraction USS Freegun, Comando Cittadella Largo di sud-west Manhattan Ah, è la nave E Report Taggart's order led directly To the collapse of the Central Blue Zone Welcome home Operation Redline is over What about our men? The ones on the ground in Manhattan You didn't think I was that naive, did you? When you have a festering window Cauterize it Siamo salvando milioni di vivi americani. Non mi non mi lasciatevi rinforare il New York come che hai rinforato l'hope. Ma che? Ci siamo 6 minuti, e solo io conosco l'hope. Tu eri in HOPE, Idaho. Tu hai fatto qualcosa da Elizabeth Green. I know what Blackwatch has done because everyone I've killed they're in me they are me that's how we love you I've stopped this damn thing before stopped it dead hope I'd owe just a sacrificial lamb necessary cruelty shoot anything that moves no one comes in nothing gets out sir the walkers have sealed themselves in the hospital we have orders to liquidate the entire population the mother and child are now military assets and I just made general officer I'm a bastard you could have stopped all this let it happen when the weapon detonates and they think the infection is cleansed they won't be looking for me and when I consume you I'll be able to withstand even this come come what the cow no vabbè raga all hands on deck all hands on deck in turn alert in barn this is not a drill ma va 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 uccidi cacciatore supremo prima della detuzione della bomba prendi sto missile gesù bambino eh ho morto oh è svegliati dio bonazzo sono morto raga sono morto morto male non ce la farò mai in 50 secondi ucciderlo che cazzo sono ragazzi è scomparso eh vabbè ho sbagliato eh 30 secondi restanti ma ragazzo ma ti rendi conto che lui mi tocca a volo eh esplode lascialo esplodere io me ne vado scusa che senso ha sto gioco eh lascia le spade io me ne vado ma cosa cazzo eh ragazzi non è facile eh niente ci vediamo dopo nooo ma poi mi mi selezioni il bersaglio sbagliato barca puntana niente eh vabbè ma mi ha tolto tutta la vita vedi vedi ma lì va a tonti un'epoca 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 rimane Sì, sì. Non gli faccio niente, ragazzi. Eh, ma non gli faccio niente, ragazzi. Non gli faccio niente. Lo stordisco, non so come ho fatto. È la prima volta che lo stordisco, ragazzi. No, 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 non ci credo. Eh, no. Sì, sì. Vai, 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 vai. giù un botto, giù un botto, giù un botto ma ce la farò mai nooo 30 secondi rimanendo no 20 secondi vai 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 si, 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 si indietro guardate ragazzi il microfono uuuu mamma mia e ce la si fa non ci credo cioè non manca più nessuno da uccidere ah sta portando via la bomba atomica ragazzi quello che doveva far esplodere tutta la città così stiamo salvando la città vai giù non lo tieno no 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 ok ragazzi titolo finito era il boss finale ecco perché era così difficile ho iniziato il boss finale alle 10 no alle 9 e mezza sì 9 e mezza e sono le 11 e mezza è stata molto dura comunque un'altra serie finita ragazzi io vi ringrazio della visione ringrazio chi ha seguito tutta la serie mi raccomando iscrivetevi al canale ragazzi seguitemi sulla mia pagina instagram e il mio canale twitch noi ci salutiamo ciao belli ciao